Luciano Toriello, direttore artistico di Monde. Si è svolta la terza edizione del festival a Monte Sant'Angelo. Parliamo di cammini, di cinema e soprattutto di incontri. Partiamo dai cammini. Due cammini e una passeggiata guidata qui tra Monte Sant'Angelo, la foresta Umbra e gli eremi di Pulsano. Sì, come al solito i cammini sono la peculiarità del nostro festival perché viviamo l'esperienza a 360 gradi e quindi la mattina abbiamo avuto come al solito degli incontri, delle passeggiate. E' notevole successo al discorso il cammino in foresta Umbra dove poi al termine all'Elda Hotel abbiamo avuto un concerto di Paolo Sassanelli e di Rione Iunno e davvero ci ha raggiunto tantissima gente. Un evento inaspettato, un grande successo. Poi al discorso grande successo anche la visita al villaggio monastico dell'Abbazia di Pulsano. Tantissimi curiosi, tanta gente che è venuta da fuori, tanti esperti che hanno visto per la prima volta l'Abbazia si sono resi conto che è davvero un diamante incastonato nel Galgano. Per quanto riguarda invece il cinema, ovviamente a Monde si parla di cinema sui cammini ma anche un cinema tutto tondo. Sì, a Monde diciamo che abbiamo parlato di cinema a tutto tondo perché oltre al grande evento speciale con Sergio Rubini, con il film della stazione, abbiamo trattato delle tematiche molto importanti durante le altre proiezioni. Abbiamo parlato soprattutto del rapporto uomo-natura e di come questo possa non essere per forza vissuto come una sfida, ma di come l'uomo possa essere in armonia con la natura. E poi abbiamo parlato di un tema molto importante quest'anno che è la comunità. Abbiamo sentito durante il lockdown un grande bisogno di rincontrarci, di riabbracciarci perché ci stavamo spostando online creando soltanto il concetto di community e ritornando dal vivo la comunità si allarga e viene apprezzata meglio. Grazie Grazie Grazie